Sono perfetto Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Signore e signore dell'Italia partner di Schettin, benvenuto a Milano, sono le ore 15 e 50 minuti Per garantire la vostra sicurezza vi vediamo a rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate Fino a quando il segnalo luminoso verrà spento e a mantenere i telefoni e i cellulari disattivati Fino all'apertura delle porte Accomandiamo inoltre di aprire le cappelliere con cautela per evitare la cappelliera Grazie Eline e gentleman all'Italia, membro di Schettin, when comes you to Milano, it's now 10 minuti to 4 pm For your safety, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened Until the fastened seatbelt sign has been turned off And keep your mobile phone switched off until the aircraft doors are open Furthermore, we recommend you to open the overhead lockers carefully as I take my info So, thank you